Cultura della legalità a Napoli. Rimossi oggi un murales e un altarino. Questa mattina a Napoli l'amministrazione comunale assistita dalle forze dell'ordine ha provveduto alla rimozione di due manufatti abusivi. Un murales esito in via Chiaro di Luna, nel quartiere Poggio Reale, dedicato a Emanuele Enrico, ucciso il 26 aprile 2018 nei pressi della propria abitazione a colpi d'arma da fuoco nell'ambito del conflitto tra gruppi criminali e un altarino sito in Vico Lungo Teatro Nuovo, nel quartiere Monte Calvario, in area di interesse archeologico, dedicato a Vincenzo Masiello, ucciso il 21 settembre 2012 nei pressi della propria abitazione in un agguato di camorra. Il programma di interventi avviato a seguito di operazione concordata, in apposito tavolo tecnico e in ottemperanza gli esiti del Comitato Ordine Sicurezza Pubblica dell'area metropolitana del 4 marzo scorso, proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, con la finalità di ripristinare il rispetto della legalità con la progressiva rimozione di manufatti o altri simboli che insistono abusivamente sulla pubblica via, fermarestando l'eventuale sussistenza di specifici reati.